Sì, non era facile perché sono entrato in un momento critico, loro avevano preso fiducia e stavano continuando ad attaccare, hanno portato su anche i difensori, quindi sono contento che siamo riusciti a portare a casa la vittoria e sono felice dei tre punti. Io mi metto a disposizione del mister, poi chiaramente di fare le sue scelte, però sì, mi sono sempre allenato, quindi non devo recuperare condizioni fisiche o quantomeno, ma devo solo essere pronto se il mister mi butta dentro o se mi fa giocare dall'inizio. Allora, io ho sempre giocato braccetto di destra, però quando un difensore deve riuscire a saper fare tutto, quindi va benissimo a centrale, a sinistra, dove c'è bisogno.